ciao ben trovati in questo video parleremo di cell di social emotional learning parleremo di emozioni ed empatia nella cooperative classroom e vedremo come strutturare delle attività utilizzando un applicativo come padlet che ci consentirà di suscitare emozioni nei nostri studenti ma soprattutto delle riflessioni sul tema importante dell'empatia e su quanto sia importante rispettare gli altri rispettare le emozioni gli stati d'animo rispettare le complessità delle vite degli altri bene vediamo questi tre esempi di baccheche digitali che sono state strutturate utilizzando l'applicativo padlet nei quali lo scopo l'obiettivo è quello di suscitare una riflessione quindi utilizzare uno stimolo visivo in questo caso ma può essere anche uno stimolo uditivo uno stimolo testuale quindi come sempre anzi più stimoli utilizziamo più chiaramente andiamo incontro alle diverse intelligenze dei nostri studenti e stili cognitivi dei nostri studenti e quindi ci orientiamo verso una didattica inclusiva ad ogni modo quindi partiamo da uno stimolo per suscitare un'emozione nei nostri studenti e che poi diventa anche un momento di riflessione su un concetto importante nel nostro caso nel caso del nostro video su come quello di di empatia ed è il caso soprattutto di questa prima bacheca in cui abbiamo un video molto bello di rene brown sulla sul concetto proprio di empatia non lo guardiamo per motivi per motivi di tempo ma insomma è un video in cui si riflette proprio sulla sul concetto di empati un video in inglese ma con i sottotitoli in italiano dopodiché guardato il video di cui troverete tranquillamente il link all'interno della della classe virtuale guardato il video si chiede allo studente di esprimere un'idea sul concetto di empatia di costruire un muro di parole con le parole chiave può farlo sia in cartaceo che in digitale di costruire un acrostico sempre utilizzando le parole chiave oppure raccontare anche un episodio della vita in cui qualcuno ha avuto un atteggiamento empatico nei suoi nei suoi confronti in questo modo ecco che attiviamo nello studente questo momento di riflessione e questo spazio diventa anche uno spazio di condivisione di racconti di idee e di esperienze altro esempio eccolo abbiamo un video di natura un po diversa qui abbiamo l'elogio della della diversità il video è un corto a like di grande intensità si chiede ancora una volta allo studente di guardare il video di disegnare però in questo caso un'emozione perché padlet è uno strumento che consente allo studente anche di disegnare direttamente sulla bacheca oppure di costruire anche in questo caso un muro di parole un acrostico di raccontare un'emozione o addirittura di scrivere una poesia la terza bacheca è un po più strutturata qui abbiamo un tipo di attività addirittura in verticale perché come vedete sono inclusi tutti gli ordini di scuola dall'infanzia alla secondaria e per ogni ordine di scuola un tipo di attività diverso sempre e comunque legato alla musica e all'arte quindi come vedete emozioni in musica ed emozioni in arte scuola dell'infanzia alla scuola infanzia viene chiesto di ascoltare il brano qui avete qui abbiamo due brani in formato due file in formato audio gli si chiede di ascoltare il brano e disegnare l'emozione oppure raccontare in un file audio o video cosa lo studente abbia provato oppure scattare una foto in cui mostra agli altri l'emozione che ha provato e tutte queste sono funzionalità che l'applicativo padlet ci restituisce anche nella sua forma anche nella sua versione gratuita nella scuola dell'infanzia nella scuola primaria l'obiettivo sostanzialmente è lo stesso in questo caso però cambia lo stimolo quindi non c'è la richiesta di partire dal file audio ma la richiesta di partire dal dipinto quindi osserva il dipinto disegna la tua emozione oppure racconta in un file audio video cosa hai provato oppure scatta una foto in cui mostri l'emozione che hai provato per la scuola secondaria in cui gli studenti sono un po più grandicelli ecco che diciamo l'obiettivo è quello di ascoltare la canzone leggere il testo e poi raccontare le emozioni che si sono provate in formato questa volta testuale oppure in un disegno oppure in un acrostico in un fumetto o addirittura in un video quindi come vedete un qualcosa di sicuramente molto più elaborato quindi lo studente che cosa farebbe cliccherebbe sul pulsante più che trova qui in basso perché questo è uno spazio anche scrivibile e come vedete qui trova tutta una serie di funzionalità cliccando sui tre puntini qui dove c'è scritto altro come vedete si apre veramente un mondo quindi ha la possibilità di caricare un file scattare una foto con la telecamera utilizzare la videocamera per registrare se stesso registrare nell'audio registrare lo schermo condividere la posizione disegnare ricercare immagini caricare gif addirittura video in youtube o cercare direttamente sul web quindi veramente una ricchezza straordinaria e vediamo come si fa bene lo strumento è padlet padlet.com io sono già registrata per cui una volta registrata io accedo alla mia dashboard cioè alla mia alla mia bacheca nel caso in cui non fossi registrata troverei un pulsante che mi chiede di farlo quindi inserirei una serie di dati e potrei accedere a questo a questo archivio qui in alto trovo un pulsante che dice crea un padlet ecco che vedete mi si apre un pannello in cui ho la possibilità di scegliere il layout della mia bacheca cioè il modo in cui i vari post andranno a disporsi generalmente in questo tipo di bacheca io utilizzo il primo il muro perché i tasselli vanno a posizionarsi così come i mattoni all'interno di un di un muro quindi clicco il primo ed ecco che la mia bacheca si sta già componendo ecco che con grande creatività mi suggerisce un titolo che io però vado a modificare lo chiamo empatia quindi riflettiamo sull'empatia ok dopodiché vado a fare tutta una serie di modifiche grafiche quindi vado a scegliere un'icona ok vado a scegliermi qui l'indirizzo fondamentale perché vedrete che va a posizionarsi poi in alto qui sulla barra degli indirizzi lo chiamo empatia anzi cosa sia l'empatia cerchiamo di non lasciare spazi e che sia un titolo facilmente dettabile ai miei ai miei studenti quindi avrei potuto anche chiamarlo semplicemente empatia ok empatia anzi 2022 ma come un po come mi pare anche lo sfondo può essere personalizzato e posso scegliere tra colori a tinta unita gradienti trami motivi immagini addirittura scegliere il mio sfondo cercarlo tra le immagini caricarlo quindi se vado a cercarlo tra le immagini faccio una ricerca sul web empatia mi restituisce tutta una serie di risultati ne prendo ne prendo uno e lo aggiungo come sfondo del mio della mia bacheca dopodiché scelgo anche poi combinazioni di colori o caratteri scelgo di visualizzare o meno i commenti posizionare il modo in cui posizionare i miei i miei post queste sono tutte delle scelte che potrete fare anche in un secondo in un secondo momento a questo punto clicco su avanti ed ecco che la mia bacheca è già è già pronta a questo punto che cosa faccio devo inserire i due post quindi quello che ospita il video di youtube quindi me ne vado qui ho cliccato su più mi si è aperto lo spazio in cui inserire un post digito compito ops digito compito e qui vado a inserire le istruzioni per per i miei studenti ok quindi passo dopo passo vedrete che qui c'è anche la possibilità di avere un minimo di formattazione quindi selezionando il testo io posso anche inserire un punto un punto elenco e devo andarmi a prelevare poi il video da youtube quindi tre puntini e vado su e vado su youtube eccolo qui io odio il video sull'empatia di brown vediamo se me lo ricerca e se me lo trova eccolo qui ok scelgo il mio video magari non ho scelto neanche quello giusto ma comunque lo pubblico eccolo qui quindi ho messo il video ho messo le istruzioni tutto all'interno dello stesso post a questo punto devo fare in modo che i miei studenti però possano scrivere su questa bacheca quindi devo trasformare questo spazio in uno spazio scrivibile quindi che cosa faccio vado su condividi ok non aggiungo i membri perché dovrei aggiungerli proprio singolarmente ma che cosa faccio clicco sul pulsante cambia privacy segreto vuol dire che soltanto le persone che hanno il link potranno interagire con la bacheca mi sta bene così che cosa devono poter fare i visitatori scrivere mi sta bene così potrei dire poi successivamente una volta che gli studenti hanno modificato e hanno inserito il loro post che questa bacheca debba essere soltanto visualizzabile quindi cambierò il permesso in può leggere benissimo la mia bacheca è pronta chiudo non mi resterà altro che condividere il link con i miei studenti quindi loro quindi che cosa faranno i miei studenti apriranno il loro browser digiteranno l'indirizzo che il docente gli ha condiviso troveranno questo spazio scrivibile guarderanno il video quindi dovranno a quel punto creare il proprio post cliccheranno su più e avranno diverse scelte diverse opzioni quindi cliccheranno sui tre puntini sospensivi potranno caricare un file potranno scattare una foto che li ritragga nell'espressione di una di un'emozione in quella in quel momento ok potranno per esempio registrare con la videocamera se stessi che raccontano in un video che cosa pensano della dell'empotia potranno anche registrarlo in formato audio registrare proprio tutto lo schermo potranno addirittura disegnare che cosa pensano del concetto di empatia e naturalmente pubblicarlo inserendo il loro il loro nome bene quindi in questo video abbiamo esplorato uno strumento come padlet che ci consente di realizzare una di strutturare un'attività nella quale partendo da uno stimolo che può essere un video un'immagine un audio un testo noi suscitiamo nei nostri studenti un'emozione ma soprattutto attiviamo una riflessione su un concetto anche molto importante come nel nostro caso quello di empatia benessere clima d'aula gruppo classe sono dei concetti molto importanti e come sempre il digitale poi ci consente di strutturare delle attività che coinvolgano pienamente i nostri studenti grazie grazie grazie